Eccoci con ora TG, copertina riservata al maltempo, l'allerta rossa diramata dalla protezione civile fino alle ore 24 di oggi. Da domani scatterà invece l'allerta arancione più lieve rispetto a quella rossa, oggi tanti disagi soprattutto nel Trapanese, nel Palermitano, scuole chiuse, edifici allagati, voli dirottati in altri aeroporti per il forte vento, sono stati anche cancellati alcuni treni durante la prima mattinata, una situazione ancora in fase di evoluzione, vediamo insieme. Palermo stamattina si è risvegliata così, immersa in una nebbia di nuvole. La pioggia caduta in modo incessante ha provocato allagamenti sia in città sia vicino al mare. La situazione più critica si è registrata nella borgata marinara di Mondello, dove molte strade si sono inondate al punto da diventare quasi impraticabili. Diversi residenti che abitano in case al pian terreno hanno dovuto fare i conti con l'acqua dentro la propria abitazione. Una criticità spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco intervenuti in alcune vie di Partanna-Mondello legata alle condizioni strutturali delle case all'ostruzione dei tombini, intasati da rifiuti e foglie, strade sommerse dall'acqua anche in via Villa Grazia ai piedi di Monreale. L'allerta Meteoross era stata diramata ieri dalla Protezione Civile e Regionale. Il sindaco Roberto Lagalla, con un'apposita ordinanza, aveva stabilito in serata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, chiusi anche cimiteri, ville e giardini comunali. Il primo cittadino ha raccomandato inoltre ai palermitani di limitare gli spostamenti dove possibile, di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità, evitando i sottopassaggi e i corsi d'acqua. Oltre a suggerimenti e raccomandazioni, sono stati forniti anche dei consigli pratici, come quello di consultare un'apposita applicazione dell'AMAP, l'azienda che gestisce in città il servizio idrico. Scaricando l'app della municipalizzata è possibile infatti monitorare in tempo reale la situazione dei sottopassi in Viale Regione Siciliana, soggetti da sempre a rischio allagamento e che in passato, quando si sono verificati i nubi fragi, hanno messo in condizioni di estremo pericolo gli automobilisti. Abbiamo seguito attraverso la protezione civile comunale l'evolversi del fenomeno, emettendo quei divieti che hanno consentito di alleggerire il traffico nella città e seguito momento per momento quelli che sono gli abituali e tradizionali punti di crisi perché oggetto di allargamento. Buone notizie vengono dai sottopassi che sono monitorati in presenza e in remoto e ovviamente si è intervenuti per dare aiuto e sostegno in quei luoghi che soffrono di una cattiva erigimentazione delle acque piovane. Parlo in particolare della borgata di Mondello, della zona di Marinella, della depressione del Papireto e di via Imera. Il maltempo ha provocato inoltre disagio anche negli spostamenti ferroviari e aerei. Trinitalia ha cancellato oggi cinque corse nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Alcune sono state sostituite dai bus, mentre due aerei che dovevano atterrare al Falcone e Borsellino sono stati dirottati in altri scali dell'isola. Si sono registrati problemi anche in centro città, alcuni autobus sono rimasti bloccati. Il personale del 115 ha effettuato interventi all'interno di appartamenti nelle zone di Via Oreto, Via Roma, Via Altofonte e nei pressi del Tribunale. Per domani allerta arancione in Sicilia occidentale, gialla nella parte centrale e orientale della nostra isola. Ma il maltempo durerà ancora per diversi giorni. Vediamo. Una vasta perturbazione ciclonica proveniente dal fronte libico-tunesino alimenta instabilità a meteo su tutta l'isola, specie nella parte occidentale. Forti rovesci previsti nel Messinese e nell'area sudorientale. Venti di Maestrale e di Cirocco nel Catanese con piogge non un fenomeno passeggero, ma più diffuso e destinato ad alimentarsi per tutta la prima metà della settimana, con piogge schiarite, ma anche venti forti, soprattutto sui versanti tirrenici. Gli esperti parlano di ciclogenesi esplodente, ovvero condizioni di bombe d'acqua dagli esiti spesso disastrosi. La primavera tarda ad arrivare, mutando la percezione delle stagioni che ormai siamo abituati a vivere in situazioni di instabilità, che variano repentinamente. Quindi sarà anche questa settimana caratterizzata da instabilità atmosferica, con alluvioni lampo che interessano in prevalenza il settore occidentale, classificato dalla Protezione Civile, che ha diramato un bollettino di allerta rossa. Al momento non si possono definire modifiche termiche significative, anche se tra giovedì e venerdì l'ampio fronte mediterraneo dovrebbe abbandonare la Sicilia, ma un nuovo fronte è atteso già dal prossimo fine settimana, secondo l'esperto meteo Giuseppe Pittera. Sta succedendo che le stagioni sembrano stravolte. Ciò che doveva avvenire a novembre sta avvenendo adesso. Abbiamo una configurazione tipica dei mesi autunnali, una figura di bassa pressione che sta coinvolgendo pienamente la nostra regione, con fenomeni che attualmente, ad esempio in questo istante, mentre stiamo parlando, stanno colpendo duramente sia l'area del gelese, sia il messinese nella zona di patti, con violenti temporali. E infatti è una situazione in continua evoluzione da tensionare ora per ora. Dunque si attendono anche mareggiati, possibilità cicloniche, anche nei settori occidentali, anche orientali, dell'isola, soprattutto appunto le messinese nella zona sud. Allora, diciamo che sì, era stata diramata l'alletta rossa, soprattutto per la parte occidentale della regione, però vista la dinamicità della situazione è da tensionare un po' tutto il territorio. Possiamo avere anche qualche mareggiata dovuta ai forti eventi di Scirocco, che attualmente stanno interessando appunto l'area ionica, mentre dal punto di vista delle precipitazioni dobbiamo stare attenti al pomeriggio, e alla serata cosa potrà avvenire, perché ripeto, siamo ancora nel clou e quindi può avvenire di tutto. Per la prima tintarella bisognerà appazientare ancora, ma si prospetta un'estate torrida che potrebbe far segnare picchi di caldo record. Questo maggio anomalo mi ricorda un po' quello che c'è stato nel 2019, anche quattro anni fa abbiamo avuto un maggio molto instabile e ricordo che poi ai primi di giugno l'estate venne di botto, quindi non mi meraviglierei se anche quest'anno accadrà la stessa cosa. Temperature record anche per quest'anno per quanto riguarda l'estate? Diciamo che il fatto che stia facendo questo mese così strano, anche diciamo sotto media dal punto di vista termico, non significa che non avremo un'estate calda, anzi, io sono dell'idea che anche quest'anno qualche record potrebbe cadere dal punto di vista delle temperature. Lasciamo il meteo che troveremo in coda al telegiornale per parlare di cronaca. Sono stazionali e ma gravi le condizioni del turista polacco aggredito la sera di venerdì in una delle strade del centro storico di Catania per il furto dell'iPhone. E intanto il prefetto di Catania ha convocato per domani il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Proseguono le indagini della squadra mobile di Catania per identificare l'autore dell'aggressione consumata sin via neve la sera tra venerdì e sabato ai danni di un turista polacco che cadendo dopo appunto essere stato aggredito ha battuto violentemente la testa ed è ancora ricoverato al reparto rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania in gravissime condizioni. L'aggressione per il furto del telefonino un iPhone del valore di oltre 1000 euro che malgrado la protezione con sofisticati sistemi di sicurezza garantiti dalla casa madre sia adesso craccabile dunque una volta ripulito commerciabile nella rete del mercato nero. Un episodio di violenza in pieno centro commesso pare da un extracomunitario di cui la polizia ha già una descrizione e chissà forse ha anche una indicazione più dettagliata. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle telecamere posizionate nella zona di Via Neve siamo a pochissimi passi da Piazza Stesicoro e dunque stringono il cerchio attorno al responsabile intanto in città monta la polemica sulla sicurezza anche nel centro storico mentre al Garibaldi Centro il turista polacco rimane ricoverato in rianimazione. Il ragazzo perché è un paziente giovane è arrivato da noi nella notte fra venerdì e sabato è stato preso subito in carico dagli anestesi rianimatori portato in sala operatoria dove ha già subito un intervento neurochirurgico per evacuazione di un ematoma epidurale a livello cerebrale. In atto il paziente è in coma farmacologico è ricoverato presso la nostra rianimazione e quindi siamo in attesa, in prognosi riservata siamo in attesa di ulteriori sviluppi. Di fatto è una fase stazionaria? Il paziente è stazionario e oggi farà un'altra attacca in cefalo i controlli neurologici e neurochirurgici sono costanti come il sostegno delle funzioni vitali oltretutto un paziente quando è ricoverato in una rianimazione lo è per il sostegno delle funzioni vitali così il paziente che è in coma farmacologico è supportato dal punto di vista respiratorio metabolico, cardiocircolatorio e tutto il resto. Hanno fatto scolpore le immagini diffuse dal testato online Catania Today circa il furto di una bicicletta dinanzi al palazzo di giustizia di Catania adesso il colpevole responsabile è stato ammalettato dai carabinieri. Dopo auto e scooter la nuova frontiera del furto a Catania è quella relativa alle bici elettriche pochi secondi e un mezzo a due ruote dotato di batteria è stato rubato venerdì scorso nei pressi del palazzo di giustizia in Piazza Verga un ladro in pochissimi secondi ha tagliato entrambe le catene metalliche che erano state applicate dal proprietario della bici quindi il ladro si è allontanato a tutta velocità un furto fulminio che tuttavia è stato immortalato da un appassante con il proprio telefonino un video divenuto successivamente virale sui canali social con l'autore del furto immortalato mentre con grande noscialanza in mezzo a tanta gente ha messo a segno il colpo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante in collaborazione con la sezione di polizia giudiziaria della procura distrittuale della Repubblica di Catania dopo aver visionato il video però hanno rintracciato l'autore del furto un pregiudicato con reati pregressi contro il patrimonio di 49 anni rintracciato nella sua casa nel quartiere di San Cristoforo decisivi alcuni particolari come dei tatuaggi che hanno messo il militare dell'arma sulle tracce del ladro in pochissimo tempo così l'uomo è finito in manette ma della bicicletta al momento nessuna traccia le indagini proseguono per rintracciare il mezzo a due ruote che non si esclude possa essere stato rubato su commissione sono 90 le città italiane attraversate dal tour una vita da social alla campagna itinerante promossa dalla polizia postale contro il cyberbullismo l'obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi relativi ai social network e al cyberbullismo giunge alla decima edizione una vita da social un tour itinerante sul territorio nazionale che abbraccia ben 90 città una campagna educativa realizzata dalla polizia di stato cofinanziata dalla commissione europea e dal ministero dell'istruzione del merito stamattina tappa a Lebrino nell'area esterna del locale commissariato di polizia studenti, genitori e insegnanti degli istituti comprensivi Angelo Musco Pestalozzi e Campanella Sturzo sono stati informati sui temi più pressanti circa la sicurezza sui social network onde prevenire e affrontare nella maniera giusta i fenomeni di cyberbullismo dell'adescamento online e della sicurezza della privacy Questa è una campagna itinerante perché riguarda tutto il territorio nazionale oltre 90 tappe in Sicilia siamo oggi qui a Catania ma andremo nei prossimi giorni a Messina a Ragusa proprio per coinvolgere il territorio con questo track che in fondo trasmette un messaggio incontreremo anche qui tantissimi studenti delle scuole superiori delle scuole medie i bambini perché sono loro che poi speriamo la nostra speranza è questo facciano anche da guida per gli altri ed è un'iniziativa che va avanti già da tanti anni proprio vita da social perché con questa iniziativa e tramite social speriamo di sensibilizzare e aiutare comunque più piccoli è un segnale importante che ciò avvenga in un quartiere come Librino ed è proprio questo è stato scelto questo quartiere perché i rischi del web chiaramente non hanno classi sociali o quartieri ma questo quartiere non si deve sentire ecco tra virgolette escluso la campagna è stata voluta qui davanti a un presidio di legalità che è il nostro commissariato di polizia per dare un segnale sempre più importante e più forte noi oggi parliamo appunto di adescamenti di sexting di cyberbullismo l'eccessiva esposizione come vetrina può rappresentare per loro un pericolo le direttive più importanti che impartirete proprio ai ragazzi? racconteremo delle storie storie di cyberbullismo storie di pornografia minorile di adescamento di cui sono rimaste vittime ragazzi come loro della loro stessa età ed è proprio raccontando le storie storie vere accadute che noi speriamo di convincerli sempre più sull'attenzione che devono prestare controlli del Noras del corpo forestale della regione siciliana a Pozzallo una nave con in stiva 3.300 tonnellate di grano appunto il grano viene adesso controllato dagli agenti del Noras i risultati dei controlli saranno monitorati dall'assessorato regionale all'agricoltura questa mattina gli agenti del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia Noras del corpo forestale della regione hanno prelevato un campione di grano tenero trasportato da una nave battente bandiera Panamenze partita da Spalato in Croazia sino al porto di Pozzallo in provincia di Ragusa 3.300 tonnellate di grano tenero proveniente dalla Serbia dunque è destinato a mulini siciliani è stato prelevato un campione da destinare alle analisi nei laboratori dell'ispettorato centrale qualità repressione frodi di Catania che è dotato di attrezzature di ultima generazione per questo genere di verifiche verranno valutati costituenti fisici chimici l'eventuale presenza di agenti patogeni e antiparassitari insomma si stringono le maglie sulla importazione di grano proveniente da paesi esteri non vi è allo Stato alcuna accusa né vi sono notizie di riscontro solo un controllo diciamo così preventivo a tutela dei consumatori siciliani le verifiche sono state effettuate in collaborazione con gli ispettori fitosanitari dell'osservatorio regionale malattie delle piante e dell'assessorato regionale dell'agricoltura l'operazione fa parte dei diversi controlli quotidiani del noras a tutela della qualità del comparto agroalimentare così come previsto dalle normative europee sulla tracciabilità della merce voltiamo pagina si è svolta a Cefalù l'assemblea regionale delle proloco siciliane aderenti all'Unpli si è svolta ieri a Cefalù l'assemblea regionale delle proloco siciliane aderenti all'Unpli Unione Nazionale Proloco d'Italia l'assise delle 278 realtà che contano 15.000 volontari è stata anche l'occasione per approvare l'acquisizione della personalità giuridica un passaggio importante il riscontro a quanto previsto dal codice del terzo settore che fra gli altri aspetti fornisce ancora più credibilità alle associazioni e solleva i soci dalle responsabilità personali una realtà quella delle proloco sempre più a supporto dei territori ha affermato il presidente dell'Unpli e del Comitato Regionale Sicilia Antonino Laspina durante la riunione in cui sono intervenuti l'assessore regionale alla famiglia e politiche sociali Nuccia Albano l'assessore alle autonomie locali Andrea Messina l'assessore all'agricoltura sviluppo rurale Pesca Luca San Martino è in collegamento video il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagno che ha sottolineato quanto la proloco sia ormai una realtà fondamentale abbiamo toccato con mano ha commentato la spina alla vicinanza del governo regionale a partire dal presidente Schifani e dell'Assemblea regionale siciliana siamo a lavoro con i vari rami dell'amministrazione per l'avvio di progetti e di altre iniziative che possono essere di supporto alle attività svolte dalle proloco e cui benefici per i territori sono documentati cifre alla mano nel report realizzato dal centro studi della CGA di Mestre i numeri parlano chiaro sulla capacità di creare indotto dall'animazione territoriale con oltre 110.000 eventi in un anno in Italia oltre 20.000 in Sicilia ecco tutto questo rappresenta sicuramente anche un volano turistico considerando gli 88 milioni di visitatori che in ogni caso richiamano questi eventi riusciamo a creare forte connessione con tutti i partner locali collaborazioni importanti con tantissime organizzazioni Anci Borghi più belli d'Italia insomma tutto quello che fa sistema fa parte della nostra attività sia a livello regionale ma anche soprattutto a livello nazionale è una giornata molto importante appunto perché abbiamo lasciato alle nostre spalle la pandemia dove la proloco ha fatto una grande parte con il suo intervento le istituzioni hanno bisogno di queste associazioni quindi noi abbiamo motivo sempre di ringraziare perché dove le istituzioni non arrivano c'è il volontariato che aiuta la nostra comunità Presente all'incontro per dare il proprio contributo anche Daniele Salvatore Tuminello sindaco di Cefalù Più che il padrone di casa sono felice di essere ospite nel senso attivo del termine abbiamo il piacere di ospitare questa grande manifestazione che mette insieme le proloco della rete regionale in questo scenario magnifico che è quello del Teatro Salvatore Cicero di Cefalù la proloco di Cefalù è strutturata da anni e contribuisce con tutte le iniziative che produce per la valorizzazione delle nostre tradizioni della cultura di quelle che sono tipicità della città è stata inaugurata ad ACI Sant'Antonio nella Catanese il monumento bronzio raffigurante Domenico Di Mauro artista sant'antonese di adozione noto per le sue opere pittoriche nei garetti siciliani svelato ad ACI Sant'Antonio il monumento bronzio raffigurante Domenico Di Mauro in paese per tutti era Minico Petturi noto per i suoi dipinti su garetti siciliani presenti nei maggiori musei al mondo e nelle dimore di appassionate di arte siciliana su carretto l'antico mezzo di trasporto trainato da cavalli o muli decorato con motivi storici dai paladini alle geste dei personaggi che hanno percorso la storia dell'isola il pittore morto all'età di 102 anni era volto noto in paese e la sua bottega è stata meta di regnanti e personaggi del mondo dello spettacolo il re di Svezia andò a trovarlo per ammirare le composizioni che man mano prendevano forma e colori nella località etnea capitale del carretto siciliano tra l'ottocento e buona parte del novecento abili artigiani gli intagliatori realizzavano questi mezzi di trasporto oggi presenti nel museo cittadino che celebra e ripercorre la storia di questa antica arte che ebbe nel maestro di Mauro la massima espressione artistica raccolta dai suoi allievi come in Elina Chiarenza divenuta l'erede naturale del grande artista una figura iconica Domenico di Mauro il quale con la sua arte pittorica e decorativa ha contribuito a far conoscere l'acee Sant'Antonio nel mondo la statua in bronzo allocata in piazza Cantarella forgiata in posa interattiva risalta la figura dell'artista intento a pennellare una sponda a suo fianco una sedia vuota a disposizione dei visitatori per un selfie ricordo l'opera commissionata dal comune all'artista Placido Galì è stata affucinata in una fonderia di Nola all'inaugurazione oltre ai parenti di Domenico di Mauro l'esibizione di Aloscia e l'intervento del critico storico d'arte Paolo Gian Siracusa questa scultura interattiva appunto che rappresenta Domenico di Mauro è realizzato lui seduto il pittore è seduto nel frattempo che sta realizzando una sfonda di caretto quindi sta dipingendo questa sfonda di caretto interattiva perché diciamo chi viene a vedere la scultura si può anche sedere vicino a lui e quindi può essere fotografato vicino al maestro la città del caretto siciliano ha voluto così omaggiare il grande maestro con quest'opera in bronzo a grandezza naturale sistemata in piazza Raimondo Cantarella dove in tanti si sono regati in occasione dell'inaugurazione Domenico di Mauro detto minico pitture è stato veramente la storia della nostra città la nostra città città del caretto siciliano che ha avuto e ha ancora oggi diversi artisti che hanno portato avanti il nostro nome il nome del nostro paese e stasera veramente con commozione con orgoglio svegliamo questo monumento sarà una bella sorpresa perché il monumento è un monumento io lo definisco naturale perché rappresenta proprio lui mentre lavora e quindi è sicuramente un'occasione unica per rappresentare un grande del nostro paese una persona che effettivamente ha dato l'ustra degli Sant'Antonio e veniamo adesso alla Corri Catania che ieri ha acceso appunto il centro storico di Catania erano oltre 20.000 ieri a correre in giro per le vie del capoluogo etneo motivati dallo slogan Catania Corre per Catania un fiume di partecipanti per la quindicesima edizione di Corri Catania 2023 l'evento di solidarietà che dal 2009 coinvolge migliaia di partecipanti uomini donne ragazzi bambini anziani disabili istituzioni sportivi gruppi aziendali scuole famiglie intere quest'anno tutti uniti da un unico obiettivo sostenere il progetto Auto per la Salute che donerà alla Croce Rossa Italiana Comitato di Catania un'automobile attrezzata destinata a servizi di assistenza sanitaria e di supporto domiciliare alle persone economicamente fragili e ai soggetti più vulnerabili la quindicesima edizione della Corsa Camminata di Solidarietà è stata una vera festa che ha trasformato una domenica di primavera dal clima uggioso in una mattinata piena di divertimento ed emozioni prima dello start sul palco Monsignor Luigi Renna Arcivescovo di Catania per portare il suo saluto ai partecipanti poi alle 10.15 la partenza con la fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Zafferane Etnea che ha intonato l'inno d'Italia e in seguito scandito il ritmo della Corsa dalle prime ore del mattino Piazza Università è diventata una palestra a cielo aperto per il riscaldamento guidato da istruttori sportivi poi il popolo delle magliette bianche si è messo in moto tra le vie della città in un percorso lungo 5 km che da Piazza Università ha toccato anche Vietnea la Villa Bellini Piazza Dante il Castello Ursino per raggiungere poi l'arco d'arrivo posizionato in Piazza Duomo dove il fiume di Corri Catania ha chiuso la sua corsa solidale in seguito dopo il ristoro tutti in Piazza Università per la festa finale Pallavolo prosegue il sogno della Saturnia Cicastello che si è giudicata ieri alla Palacatania il match il primo match gara 1 del finale per la promozione in Serie A2 Partiamo dagli spalti 3.000 spettatori tutti insieme non si vedevano al Palacatania dai tempi delle partite giocate dalla Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo per le qualificazioni olimpiche ieri invece il palazzetto si è riempito come un uovo per salutare la prima vittoria nella finale promozione Serie A2 maschile di volley della Farmitalia Saturnia Cicastello che ha liquidato con uno sonoro 3-0 il Leo Schuss Casarano con parziali a 20 a 16 e poi ancora a 20 gara 1 lo ricordiamo per andare in A2 bisognerà vincere due partite su tre a disposizione è stata dunque senza storia almeno stando a guardare il punteggio discorso inverso in campo dove le due formazioni hanno dato il meglio per tentare l'assalto di categoria che nel caso dei castellesi definire storico e persino reduttivo spinto dal pubblico di casa il sestetto di Waldo Cantor in campo con la formazione tipo Fabroni regia Casaro opposto Zappoli e Battaglia Laterali Geroncic e Frumuselu di banda e con il solito zito settimo uomo e dunque libero ha subito dettato le regole del gioco ricevendo bene condizione necessaria per consentire la regia frizzante e spumeggiante sia al centro che alla banda che ha permesso di piantare i chiodi nella difesa del Leo Schuss sestetto privo ieri dello schiacciatore Cianciotta forse il martello più prolifico della formazione ospite Marzolla 13 punti in grande spolvero nel Leo Schuss dall'altro lato della rete Casaro 16 punti Zappoli 13 hanno di fatto segnato la sorte dell'incontro primo round dunque alla Farmitalia Saturnia a Cicastello domenica prossima alle ore 19 a Cutrufiano gara 2 predica umiltà il presidente Luigi Pulvirenti sì stiamo giocando bene dice siamo spinti dall'entusiasmo del pubblico più di 3000 persone sono un nodato straordinario per una gara di serie 3 ma ancora c'è da soffrire in gara 2 sebbene vi sia la consapevolezza che la Saturnia giocherà la gara in trasferta a testa alta e invece il Catania SSD stecca la prima in pullo scudetto dilettanti rossazzurri superati di slancio dalla Sorrento in un match condizionato anche da evidenti errori arbitrali la sconfitta ci può stare per un Catania al di sotto delle aspettative contro il pimpante Sorrento semmai a far rabbia sono le modalità con cui questa è maturata i rossazzurri deludono in occasione della prima uscita della pull scudetto compromettendo un'eventuale qualificazione al turno successivo la sull'esito del match pesa come un macigno una direzione arbitrale che lascia parecchi dubbi la squadra allenata da Giovanni Ferraro non è brillante come in altre circostanze al contrario dei Sorrentini sembrati più in palla pur non creando particolari grattacapi a Beters che si deve disimpegnare nel corso del primo tempo soltanto in una circostanza quando devia sul palo una conclusione dalla distanza di scala il Catania punge poco in avanti il centrocampo è in balia degli avversari che partono spesso in rapidi contropiedi senza tuttavia riuscire ad impensierire la munita retroguardia a Tennea pone la ripresa dopo la girandola di sostituzioni e con il match che sembra avviato verso una conclusione a reti bianche la clamorosa svista del guardaline posto sotto la tribuna centrale il signor De Palma di Molfetta ignora un tocco netto con le mani di Petito grazie al quale il numero 11 ospite vola via verso l'area di rigore avversaria mettendo in mezzo un cross che scala tramuta nello 0-1 fallo netto già visibile dagli spalti ulteriormente confermato dalle riprese televisive Lorenzini non ci sta protesta vibratamente e l'arbitro lo caccia anzitempo in dieci uomini il Catania manda in campo tutti gli attaccanti disponibili nel tentativo di recuperare il risultato ma inevitabilmente negli istanti di recupero arriva il raddoppio di Lamonica che finalizza al meglio l'ennesima ripartenza anche in questo caso resta qualche dubbio per un presunto fuorigioco adesso il Catania dovrà affrontare mercoledì prossimo la trasferta a Brindisi vittorioso ieri nello spareggio contro la Cavese e quindi promosso in Serie C quindi domenica prossima il Sorrento ospederà a sua volta il Brindisi la qualificazione al turno successivo e adesso una chimera per i rossazzurri che hanno comunque ricevuto applausi dai circa 6.000 spettatori presenti ieri alla Massimino numero nettamente inferiore alle giuste aspettative nuovamente in diretta dopo la pubblicità ma solo per chiudere il giornale con le previsioni meteo per la giornata di domani il tempo previsto per il 16 maggio in Sicilia ne abbiamo ampiamente discusso durante il telegiornale ma ecco qui i cartelli pioggia da isolata sparsa anche a carattere di rovescio temporale su tutta l'isola i venti saranno forti da burrasca occidentale i mari da molto mossi ed agitati tutti i bacini con un moto ondoso in graduale calo serale vediamo adesso le temperature senza variazioni significative dunque stazionarie sia le minime che le massime con il meteo noi chiudiamo questa edizione di Ora a Tg prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV domani alle ore 14 grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di serata a voi tutti grazie a tutti per la vostra attenzione per la vostra attenzione